Ci salutiamo oggi, è stata l'ultima puntata della settimana, prima delle festività natalizie. E' anche la puntata dell'anno, l'ultima puntata dell'anno. Esatto, noi vi ringraziamo per essere stati con noi per questa seconda parte di stagione, per quanto riguarda l'annualità, ma in realtà la prima del 2019-2020. Grazie a tutti voi, naturalmente ringrazio Claudio, ma ringrazio... Io ringrazio te, io ringrazerei anche il nostro staff, naturalmente, ora dobbiamo ricordarci tutti i nomi, adesso uno per uso è più brava di me in questo. Ringraziamo naturalmente la regia, con Giada De Gregorio. Ringraziamo la produzione, Gennaro Coppola, Gianmarco Ravo, il capo degli autori, Vittorio Amarotta, tutto lo staff, naturalmente ringraziamo il direttore di Canale 9, Vincenzo Coppola, la dottoressa Carolina Visone, editrice, la proprietà che ci permette o che ci ospita, sempre con grande accoglienza e grande affetto. Ringraziamo naturalmente tutti gli sponsor che consentono di mandare in onda questa trasmissione, ormai da cinque anni, andiamo fieri da cinque anni. Ringraziamo voi pubblico, vi auguriamo... I giornalisti anche, i giornalisti. Ringraziamo voi pubblico, un Natale di cuore che possa realizzarsi tutto ciò che il vostro cuore desidera, di grande e di vero cuore, terminerà nel 2019, riprenderemo nel 2020, sempre con Mattina 9, con tantissime novità, con tanti nuovi ospiti, tantissime belle interviste, e noi proseguiamo lunedì con il meglio di Mattina 9, quindi tutti i servizi, le migliori interviste, i piatti di Schaffer, insomma continueremo a tenere di compagnia, 11.30, 13.30. Gli orari, 11.30, 13.30, Canale 9, 7 Gold, siamo contenti, diciamo 2020, in realtà manca pochissimo, tanti auguri a tutti, intanto il meglio di Mattina 9 nelle prossime puntate. Baci di Marium per voi, tantissimi, ciao!